Questa è una domanda che mi sono chiesto tante volte e è una domanda che mi fanno spiazzare a me diciamo che è una frase molto da frontoscenza anche se in realtà, come vediamo poi a fine un po' di verità può nascondere questo tipo di umano innanzitutto volevo fare un po' di concentrazione prima di allentrarmi questo tipo di esperimento nel senso che non ho purtroppo utilizzato degli strumenti sintetici per fare questo tipo di test ma ho valutato un po' secondo le esperienze di continuazione anche tutti in questi anni per cui tutto ciò che emerge da questo, diciamo, esperimento sono dei miei pensieri per cui i qualità arrivano poi nel senso non usciamo da questa stanza dicendo che noi abbiamo visto una pianta che mangia i buoni se non ci ha restato tutti quanti per cui ecco direi sono delle valutazioni proprio mie e personali come è nata questa idea? semplicemente navigati in mente a cui sono inquattuti con una pagina scritta da Barry Gray non so se qualcuno già lo conosce ha un bellissimo sito è un botanico americano molto esperto in piante della migliore ha fatto parte di questo sito che è molto bello e ha scritto un articolo mentre aveva eraccato una malattia che aveva come tecnologia il distaccamento della pelle aveva una malattia per cui si staccava la pelle allora più di un po' così bizzarro aveva pensato di prendere un lente di pelle e vedere se la medicina era in grado di digerire la pelle quindi è arrivata la conclusione qui lui senza scomitazioni scientifiche a vedere che in effetti la pelle da come si era vista all'apertura del capo è stata sicuramente probabilmente digerita al che sicuramente aveva molto incuriosito perchè è una cosa proprio se mi piace se no se no sarebbe qua niente, avevo provato a ripetere questo esperimento però diciamo poi spingendomi un po' più oltre a dove si era fermato il nostro migliore per cui ho iniziato a continuare la pelle allora il problema principale era trovare la pelle perché il nostro amico aveva una malattia sfortunatamente per lui noi io fortunatamente no e non potevo cerco andare giro a cercare il pelle umano se non dovrebbero essere vero e allora ho iniziato in mente che però ogni tanto ha mai cambiato la problematica tra tutti di avere la famosa pellicina anche i genitori per cui ho teso pazientemente che ne crescesse una e l'ho curata per un piede e poi si muove ma non c'erano perché ha fatto male e muoio ma non c'erano sicuramente non lo taglia subito invece no non lo tengo e ho incontrato più che è arrivata l'unico sanitario che poteva permettere di iniziare questo questo esperimento beh facendo il risetto ho visto che comunque se guardiamo la nostra pelle umana e prendiamo non so tipo la vostra o 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 la vostra siamo molto molto simili alla nostra pelle umana per cui mi sono detto probabilmente allora la pelle umana può essere altrimenti digerita con una mostra ecco poi mi si intende molto spesso dire a parlare tradizionale potrebbero pensare perchè appunto non avendo strumentazione scientifica sono stato molto tranquillo nel pari di ciare attivazione niente ho preso qui questo pezzo di pelle che mi è riuscito dal viso e per l'altro qua ha avvenuto ovviamente con il tronchetto dello spessore per farla chiudere e prima di fare ciò ho fatto una foto del pezzi di pelle e a destra invece vista con gli microscopi giusto per aver guardato un po' di prima all'interno della trappola ho monitorato per circa 7-8 giorni ho controllato quella della trappola che non analisse in modo tale di verificare se stava rigelando il collettamento oppure era qualcosa che era un gesto per l'altro dopo 10 giorni si è aperta la trappola sulla sinistra è quello che siamo ancora all'interno della trappola è quello che rimane della pelle e questo è il suo riferimento si vede proprio come la pelle è stata praticamente quasi cotta a quanto sicuramente aspetto rispetto a prima vediamo com'era prima e com'era adesso quindi a questo punto molto probabilmente la piatta è riuscita tramite le sostanze infittive già alla pelle per cui già è il primo passo è una cosa che aveva già fatto quindi non è che avevo fatto giusto per andare in conto non sapevo che sia stato così però ho voluto cominciare questo esperimento in parte del proprio inizio a quel punto ho cercato qualche altra parte del corpo Mauro e potesse fare qualche tipica e sono passato a Luglia che sicuramente era molto più facile da riparere rispetto alla pelle e si vede praticamente come è composta la caratina che è una proteina più avvincosa abbiamo i soli che abbiamo altre lipi come i grassi l'acqua che è sostanzialmente la pianta la vitamina allora anche qua foto del punto ma è molto bella da vedere però non è sempre come il lato e qua si vede come comunque l'unghia abbastanza uniforme eh sapevo già che è stata una cosa molto difficile per la pianta perché l'unghia è molto molto buona come l'utilizzo schereto esatto allora da 12 giorni praticamente l'unghia era praticamente intera quindi già depolarizzato però osservando il mitoscopio si vedono queste partiglie nere che prima non c'erano ora vediamo nella confronto di prima mentre era molto più chiara adesso è molto più scura quindi probabilmente non dico probabilmente la pianta si in qualche modo si è andato ad attaccare l'unghia che probabilmente ha cercato di misere anche se in realtà probabilmente non ha riuscita perché era ancora abbastanza lento però già la pianta ha fatto già un'azione scudiglia da voi che siamo passati i capelli e già arrivati qua il mondo mi sei fatto impressionare purtroppo se si chiederebbe alla fine che ha fatto i capelli non era fatto io era un po' come la pelle anche qua i capelli sono fatti ovviamente il carbonicino una cosa che ha molto alto il capello è l'azotemone quindi si tratta di azzolto e qui la cosa puzzava perché per i bambini l'azotemone non avevano molto per conto però facciamo lo stesso cosa almeno giusto per per competenza anche qua i capelli che sono prima e anche questo scopo si vede come che sono diciamo trasparenti abbastanza quindi abbastanza bene anche qua abbiamo migliorato la trappola la managgione si è riaperta e in effetti il capello era più gustopposo rispetto a prima che era molto più solido e se vediamo la microscopia anche qua si è molto più sporina come se in effetti avesse lungo agito il città e si avrebbe valutato sul capello se vediamo le fronte troppo prima dopo notiamo già la differenza come la prima come adesso quindi probabilmente forse un po' più di lunga sicuramente è meno della pelle la prima a quel punto la carne qua chiaramente era grammatica perché prima di cercare la pelle era impossibile la carne la carne la carne tra l'altro c'è un minuto il famoso professore che diceva praticamente con il suo trattato diceva che la carne di maiale è praticamente molto simile alla carne umana a livello strutturale e diciamo che è identica se è uguale al 98% non sarà che il 2% che la pianta non carerisce ho cercato un po' come potesse essere trovata la carne e il suino c'è 68% di acqua quindi aveva abbastanza pora di grassi quindi poteva andare a bere qualche proteina poi i restanti anni a più qua ho preso un grammi che non si ritrava nella camera io ovviamente ho fatto la solita foto ingrandita e avevo scoglie ci siamo passati la settimana più lunga questa qua perché sapevamo tutti che non dobbiamo dare a mangiare le nostre cattive le mamme gli scotti gli interi dicevano anche gli decane e quindi è stata abbastanza una pressione sulla camera dopo la visione è aperta è quello il risultato della carne che è rimasta veramente impressionante cioè è come se l'avesse praticamente spazzolata è rimasta pochissima della carne che ho messo molto più scura quella che è rimasta e se facciamo la collina d'oro e se facciamo il racconto è come il tipico insetto che è stato un po' asciugato dalla della scuola inizia proprio che la carne sembra la parte più gradita rispetto al capello e la la bianca la bianca ha ragionato benissimo tranquilla la pianta non ha avuto nessuna distanianza su problemi infatti ho monitorato la trappola tutto il tempo quando il colore si lascia postura inizia una gestione per un prodotto che non risponde la pianta è tranquilla ma tutti i test che hai fatto che hai fatto su una singola pianta questa su due la singola pianta è fortunata ma siccome la fossero fortunarsi perché si è percattata l'agricolo si è percattata la pelle secondo me la domanda la domanda la sono rifatto ma a questo punto può disegnare una storia la pelle probabilmente è stata digerita come l'unico i capelli se non forse la carne quasi sicuramente però se facciamo un paragono con l'insetto la parte più dura di l'insetto rimane quindi se ci facciamo la domanda possiamo usare sempre il condizionale forse adesso come adesso no perché ovviamente non sarebbe grave però io penso che se non domani dovreste avere una politica strutturale la pianta diventare gigantesca con delle trappole che hanno dimissione dal contagliano un corpo umane forse non solo gli insetti dovrebbero tenere la pianta che è una missione in questa situazione è molto un po' di artina per esempio è un'evoluzione ma è un po' di artina grazie 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 interessante spettacolare il racconto ma anche il calco appartamentale grazie